Chiama da fatta. Benissimo, vami a prendere i defibrillatori, io intanto inizio la rianimazione cardiopulmonare, è fondamentale basilare, rianimare questa persona. 30 compressioni, quante sto a 29? 30, pinzo il naso, 2 insufflazioni, 30 compressioni. Facciamo una cosa, spieghiamo bene, dove va messa la mano, come va messa la mano? La mano va messa con la parte callosa, l'eminenza tenere semi tenere, la parte callosa della mano, il calcagno, così volgarmi, al centro del torace, nell'uomo la linea mammillare, nella parte inferiore, questo, sollevo l'altra mano, questo e dove comprimere, senza piegare i gomiti, devo comprimere per almeno 5 centimetri. E' tantissimo, 5 centimetri. 30 compressioni, pinzo il naso per vietà delle viere e controllo se si alza leggermente il torace. Senti, questi 5 centimetri che ti lasciano un po' a bocca aperta, ma se succede qualcosa, può succedere qualcosa facendo il bastamento cardiaco? Può succedere qualcosa, però se non faccio niente questa persona muore, quando arriva il medico del 118, massaggio cardiaco, poi rompere, disarticolare le coste, però mi diceva il mio medico reanimatore che l'ultimo intervento che hanno fatto, 12 coste, le ha rotte tutte e 12 con un macchinario chiamato Lucas, questo signore qui si è salvato, dopo qualche mese è ritornato a casa con le proprie gambe, ma soprattutto col proprio cervello, perché altrimenti dopo pochi minuti di carenza di ossigeno il nostro cervello inizia a morire. Quindi il massaggio cardiaco è importante perché? Tenere in vita il cervello. Siamo quelli che fermano il tempo, io, tu, lei, chi è in grado, sta fermando il tempo, danno possibilità al medico reanimatore di arrivare sul posto e salvare questa persona. Non c'è differenza tra uomo e donna di come deve essere l'approccio? Il punto di repre no, diciamo che nell'uomo la linea è intermamillare, nella donna è questo assoppiato qui, di qui a qui, comunque sempre nella parte inferiore. Esatto. 30 sono tante? 30 sono tante. La sua stanza, cos'è il giorno? Hai un buon aiuto, l'adrenalina che è in circolo, ti aiuta tantissimo, ti dà una forza. Cioè te devi fare 30, poi due soffi e poi continui fino a quando non c'è una rianimazione? Sì, di solito consigliamo un familiare, il papà, la mamma, la nonna, il nipotino, persone strane, se non te la senti nessuno ti obbliga, solo massaggio cardiaco, massaggio, massaggio, massaggio. E quindi se non fai la respirazione, prendi, vai, 30, che è faticoso da morire. Però hai l'adrenalina in circolo, l'adrenalina è un vasocostrittore, ti aiuta tantissimo, perché ti dà la forza, ti dà il carburante, hai il respiro più affannoso, il cuore che ti batte più velocemente, ti sta preparando all'azione. Grazie a tutti.